Novità importante per il comune di Andrea. L'ente infatti ha informatizzato definitivamente i cedolini delle buste paga dei propri dipendenti che d'ora in poi saranno trasmessi agli indirizzi mail istituzionali di impiegati e amministratori dell'ente stesso. Abbiamo realizzato un significativo miglioramento del servizio risorse umane, ci spiega l'assessore alle risorse umane, appunto Luigi Del Giudice, che si tradurrà nell'ottimizzazione delle procedure e che consentirà anche di razionalizzare e di contenere le spese relative alla predisposizione degli stipendi. L'elaborazione dei cedolini per via telematica, ha concluso lo stesso Del Giudice, è un importante passo sui percorsi di snellimento dell'attività amministrativa intrapresi già da tempo dall'amministrazione comunale e si inserisce nell'ottica di un sempre maggior risparmio del denaro pubblico da parte dell'ente. Grazie. 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 Grazie.